Ho trovato alcune trascrizioni di Cristoforo Colombo solo in lingua inglese che pregio leggervi. Trovate il link nella descrizione del video. Per chi fosse all'oscuro ricordo che è stato cancellato il Columbus Day, dedicato a Cristoforo Colombo il 2 ottobre, sostituendolo con la commemorazione dei nativi americani vittime del genocidio fin dal 2017. Nella lettera di Rafael Sanchez del 14 marzo 1493 si legge «Questa timidezza non nasceva da alcuna perdita o danno che avevano ricevuto da noi, giacché al contrario ho dato a tutti quelli che mi si avvicinavano tutto ciò che avevo con me, come la stoffa e molte altre cose, senza prendere nulla di loro, ma per natura sono timidi e timorosi. Tuttavia, non appena vedono che sono al sicuro e hanno messo da parte ogni paura, sono molto semplici, onesti ed estremamente generosi con tutto ciò che hanno. Nessuno di loro rifiuta qualcosa che può possedere quando glielo si chiede. Al contrario, ci invitano a chiederglielo, dimostrano un grande amore verso tutti gli altri più che verso loro stessi, danno anche oggetti di grande valore per delle sciocchezze e si accontentano di poco o niente in cambio. Più tardi ha scritto questo sul suo diario di bordo. «Possono essere ottimi servitori, con cinquanta uomini posso giocarli tutti e fargli fare quello che vogliamo». Come vedete la storia si ripete, anche se non comprendo come possa essere che un essere umano sia in grado di arrivare a questo? Com'è possibile che permettiamo a queste persone malvagie di avere il comando di questo mondo? Se pensate bene da molto tempo che ci siamo abituati a lasciar vincere i malvagi, i quali hanno sempre emanato regole, le loro regole, attraverso la storia fino ai giorni attuali, sono arrivato al punto da ammettere che il malvagio riesce sempre a sbarazzarsi dei buoni, perché i malvagi possono uccidere, mentre le persone buone non solo non vogliono, ma non possono uccidere. Questo è il problema. Non c'è modo di liberarsi dalle persone maligne se siete delle persone buone, perché non sappiamo uccidere, perché non sappiamo inchinarci alle loro leggi, ma le persone cattive sì, ed è questo il motivo per cui le persone mantengono il potere e il controllo sopra le persone buone, le persone oneste. Il solo modo affinché il buono possa vincere è diventare così potente da smuovere mentalmente ed emozionalmente il cattivo e farlo smettere di essere cattivo. sapete qual è la cosa più spaventosa di tutta questa storia? Che tutto quanto l'orrore che è stato commesso in tutta la storia è stato perché qualcuno ha detto alle persone che stavano facendo la cosa giusta. E le persone hanno sempre pensato che stavano facendo la cosa giusta nelle loro menti. Cerchiamo di porre veramente molta attenzione alle nostre virtù, perché delle volte diventa necessario, oltre che vitale, cambiare alcune di queste virtù. Per coloro che immaginano una mia assenza su questo canale invito a passare al secondo per visualizzare tutti gli ultimi video. Link sempre nelle descrizioni dei video. Buona vita a tutti e tutte. Dino